ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video super haul queste sono ancora ad aprire e sono per natale aiuto ma invece oggi vi voglio far vedere i miei regali di compleanno mesi compleanno pre compleanno e post compleanno giusto ok ci abbiamo anche l'assistente oggi alla al video no non si vede purtroppo sta salutando vabbè oggi oggi allora praticamente che cosa è successo oltre a quello che avevo fatto vedere per la promozione che c'è stata appunto col bracciale in omaggio non non ho resistito non ho resistito e niente siamo andati ancora prima che scadesse la promozione a fare un altro giro in negozio perché appunto la promozione scadeva il giorno prima del mio compleanno io avevo fatto una testa tanta del mio compleanno va bene ok quindi niente siamo andati a fare un altro giro in negozio perché ero partita con l'idea di prendere la fetta di torta vi ho già sempre per i compleanni quelle lì con con le roselline non mi piace quindi sono piena di cupcake quindi volevo la fetta di torta siamo andati per prendere la fetta di torta ma il santuomo di mio marito non è stato soddisfatto di prendere solo quella e ha preso anche altro perché come sapete i charme soprattutto li sceglie lui io li guardo sbavo e lui dice ma questi non sono più belli ma quello lì che rispetto a quello che vuoi dire non è più bello niente quindi scatola scatola delle meraviglie ho preso ovviamente un altro bracciale perché sono arrivata giusta spaccata a 129 euro grazie a ovviamente i charm di della pandora mi perché altrimenti non ci sarei mai arrivata e l'idea era quella di prendere la torta e soprattutto l'anellino quello fatto a corona senza le pietre ma ovviamente non c'era il bracciale è sempre solito quindi non sto qua a farvi una capatanta col bracciale l'avete già visto se non l'avete visto ancora nel dettaglio vi lascio il video scorso nel pallino così lo vedete meglio comunque questo qua è un altro bracciale così tanto per facciamo la raccolta come vi ho detto ho preso appunto la fetta di torta fetta di torta che è bellissima bellissima allora partiamo dai dettagli qua sull'anellino sono presenti tutte queste borchettine a forma di cuore a rilievo bellissime meglio rispetto agli zirconi sicuramente se si vuole portare spesso e poi c'è la mia fetta di tortina a più strati con la glassa di tre colorazioni differenti io cerco di avvicinarmi il più possibile ok c'è la prima che è rosa fidatevi è rosa ecco qua rosa poi bianca e poi violetta lilla sopra c'è tutta la glassa la forma della glassa tutta a un'altra cosa è che c'è un'altra cosa o una fragolina e il cuoricino smaltato anche lui in rosa così dall'altra parte esattamente uguale e in mezzo tra uno strato di crema e l'altra ci sono dei cuoricini incisi siamo pieni di zuccheri in questo periodo e il cervello è morto tipo fino a dopo natale dopo capodanno eccetera da questo lato c'è tutta la glassa striata fatta a onde è proprio fatto bene è proprio carino carino questo charme per il compleanno e poi c'è una metallietta attaccata con scritto congrats congrats non ce la farà mai con un cuoricino a rilievo quindi niente questo è stupendo questo charm e appunto veniva 39 euro ho fatto l'unplained dei 39 quindi non arrivavo a 129 il secondo charm che ho voluto prendere da abbinare se avete seguito gli altri video haul scusate se tremo un po' la videocamera da abbinare appunto con lo zainetto che avevo preso per il black friday è questo il pulmino bellissimo molto molto carino quindi per il viaggio è fantastico tema viaggio come vedete ha un cuoricino smaltato anche questo inciso all'interno ed è smaltato in rosa sopra c'è l'incisione love con il simbolino peace and love si vede un po' le mie impronte digitali comunque e il resto è tutto fatto super 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 bene dietro c'è la targa pandora e anche le ruotine guardate che belle è un charm con le filettature come vedete quindi non è passante spesso mi chiedete se tutti i charm hanno le filettature no non tutti soprattutto quelli che hanno le zirconi è difficile che abbiano le filettature perché appunto sono forati apposta in modo tale che appunto gli zirconi brillino quindi non sono pieni questi qua invece solitamente hanno le filettature ed è molto 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 bello il mio il mio camioncino frugoncino l'ultimo che penso di essere l'unica a non avere questo charm natalizio e ora finalmente ce l'ho perché piaceva principalmente a lui non avendo trovato appunto l'anello ho preso la tazza di cioccolata non l'avevo mai presa perché io ho l'orsetto che appunto ha in mano la stessa tazza di cioccolata faceva parte della stessa collezione e quindi non l'avevo mai presa però se insistete cioè l'anno scorso è passata quest'anno quest'anno no quest'anno l'ho dovuta prendere anche lui ha il cuore anche lei perché è una tazza ha il cuore inciso smaltato in rosso questa volta sopra c'è tutta la panna con i vari strati e i zuccherini ciliegine zuccherini penso che siano meglio fatti con queste sferettine in argento il bastoncino di zucchero che esce dalla tazza smaltato bianco e rosso bellissimo guardate anche qua la definizione del fondo della tazza anche il bordo alto il manico anche lui come vedete ha le filettature ed è bellissima ora sono in crisi perché devo trovare il posto per tutti questi fantastici charm non sto più acquistando sapendo già dove mettere le cose ma è questa la cosa critica sto acquistando per gusto quindi è un casino cioè è effettivamente un casino mi sono trovata con la scatola piena di cose e non so dove metterle bene vabbè l'ultima cosa che ho preso con questo round di acquisti per arrivare appunto a 129 euro ci sono arrivata spaccatamente perché è giusto 129 ho preso questo qua della Pandora Mi avevo già cercato di prenderlo la volta scorsa ma non c'era e quindi avevo ripiegato sulla corona che ho sempre messo su questo bracciale della Essence questa qua e quindi questa volta sono riuscita a trovare il diamantino che è bellissimo anche lui ha appunto tre zirconcini nella parte alta è un pochino spiovente verso i bordi proprio per dare l'idea delle angolazioni del diamantino e dietro è fatto in questo modo sempre con le sue borghettine molto molto rock penso che con la Pandora Mi sono più che a posto nel senso che mi piace come li ho posizionati li ho già messo appunto come vi ho detto sull'Essence e mi piace appunto come li ho posizionati sia su questo bracciale sia sull'altro che ho penso di acquistare solo se non arrivo alla soglia delle varie promozioni che mettono però nel senso sarei anche a posto così l'ultime parole famose vero? vero ecco allora invece poi il giorno dopo finita la promozione c'è stata quella sorta di cioè praticamente quella sorta di promozione che fa un po' ridere per Natale dove acquistando un bracciale tra i due classici cioè quello a barilotto quello con l'acquisore a cuore si possono scegliere due charm selezionati da una lista e vi fanno lo sconto su tutto del 20% cioè quindi sul bracciale e sui due charm ma vi fanno lo sconto del 20% se mi seguite su Instagram vi ho fatto vari spoiler di tutte le varie promozioni e sapete che tipo in Romania facevano il 3x2 quindi si sperava in un 3x2 invece a noi ci fanno questa promozione del cavolo detto questo peraltro guardando sul sito se si cliccava appunto sui vari charm che erano nel listone da poter appunto abbinare il bracciale erano tutti non disponibili quindi ancora Pandora deve spiegare perché fa le promozioni su dei charm che non sono disponibili sul sito quindi niente ho lasciato perdere totalmente anche perché i bracciali classici normali ne ho andavano bene come promozione per chi deve iniziare ma per il resto comunque anche no e niente che cosa abbiamo fatto abbiamo passato una settimana in montagna dai miei e siamo tornati ancora alla gioielleria quella dove avevo acquistato le murrine fantastiche abbiamo fatto un cacchio di danno perché ovviamente sono andate a cercare l'anellino quello che vi ho detto all'inizio niente questa è la scatolina perché appunto non mi andava di avere 3900 scatole come sempre e però eh suona suona pieno non c'è solo l'anellino allora abbiamo trovato l'anellino quello sì e l'anellino in questione è questo questo qua a corona mi piaceva molto questo anellino perché non ha gli zirconi quindi si può portare sempre senza nessun problema senza problemi che magari possono saltare via gli zirconi eccetera è molto 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 carino anche le punte sono fatte con queste sferine quindi non si attaccano da nessuna parte e non graffiano soprattutto e sul bordo inferiore ci sono queste borchiettine sempre un pochino a rilievo e dove ci sono le punte allo stesso livello delle punte ci sono dei cuoricini anche loro a rilievo spero che si veda bene per quanto riesca a mettere a fuoco ve lo faccio vedere anche indossato portate pazienza per le mie maniche sono a volte distrutte però questo è l'effetto indossato e niente a me questo anellino mi piace un sacco 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 però gioielleria disgraziata nello stesso vassoio c'era un anello che è andato fuori produzione da un sacco di tempo anche se loro si ostinavano a dire che era nuovo tipo dell'anno scorso ma secondo me no perché io non l'ho mai visto o almeno l'ho visto sullo seguito di facebook e l'anello in questione è questo è questa piccola meraviglia ho detto no aspetta aspetta un attimo aspetta un attimo fammi vedere questo anello con queste margherite è tutto in argento e i pistilli delle margherite più grandi hanno una goccina d'oro devo dire che la differenza tra gli anelli nuovi e gli anelli vecchi si nota soprattutto anche a tenerli in mano questo ha un peso questo è decisamente più leggero è più solido sicuramente il problema di questo anello era che era un pochino stretto ma essendo gioielleria loro hanno fatto un barbatrucco cioè me l'hanno fatto al momento e ho detto fantastico pensavo già che non potessi prenderlo perché era stretto invece loro mi hanno detto ma se vuoi te lo allarghiamo un attimo me l'hanno tagliato in questo punto come vedete e hanno aggiunto un goccino di argento ma tutto in tempo 10 minuti e quindi sono super super stupido disfatta se non ve lo dicevo secondo me non ve ne accorgevato ve lo faccio vedere anche lui indossato e niente è fantastico se voi sapete di che collezione fa parte scrivetemelo perché io non sono riuscita proprio a trovarlo dovrei andare a vedere i cataloghi più vecchi che ho su quelli quadrati secondo me non c'è quindi fantastico bello bello accoppiata vincente ho fatto così anche vabbè poi guardando Nevassoi il disgraziato che c'è qui vicino che continua a salutare con la mano ma non si vede ha visto due charm che gli sono piaciute un sacco e quindi niente ho dovuto ho dovuto dire ok di voglio no con tutto il mio dispiacere il primo sempre restando a tema viaggi che ho voluto prendere che ha voluto prendere è stata questa la valigetta smaltata rosa faccio così così si vede il colore della collezione dell'estate scorsa credo con scritto love travels ah c'era anche la versione argento quella vecchia quella normale con la scritta paris eccetera ma non mi piaceva appunto perché aveva la scritta paris questa qua è più generica e guardate i dettagli di questo charm cioè cerco di fare ombra in modo da riuscire a farvi vedere il colore ma i dettagli dei bordi della valigia dei piedini sotto c'è scritto pandora dei piedini poi tutte le cuciture laterali l'apertura i manici l'etichettina per il nome con la o di pandora incisa qua un cuore a rilievo in argento e niente è bellissima è proprio proprio bella e ci stava bene col mio furgoncino che è fatto dello stesso rosa cioè è smaltato esattamente con lo stesso rosa perché mi sembra che facesse parte della stessa collezione l'ultima cosa che se mi seguite sapete che ho bramato un sacco all'inizio e poi non l'ho acquistata perché aveva un prezzo troppo alto aspettavo il saldo ma non è mai andato in saldo poi adesso l'hanno messa appunto con la promozione ma ovviamente non c'è quella lì appunto dei due c'erano più bracciale ma non è disponibile sul sito è questo il mappamondo ed è una cosa fantastica proprio bella 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 come vedete gira gira ma non è così delicato quanto sembra cioè è bello massiccio bello pesante anche gli anelli sembrano proprio belli pesanti anche il perno qua è fatto bene cioè è spesso e se vedete la smaltatura del mare blu fa vedere all'interno i meridiani e i paralleli cioè è qualcosa di fantastico il mondo ovviamente la terra è in argento e poi ha attorno questo cerchio fatto con queste microsfere in argento questo sull'anellino ha tutti gli zirconi allora devo ammettere che è un po' lungo è un po' lungo come ingombro e quindi sto cercando di capire dove poterlo mettere ma non sarà un problema non sarà assolutamente un problema quindi niente siamo andati in questa gioielleria fantastica che non so se anche voi andate spesso in gioielleria ad acquistare piuttosto che in store a volte le gioiellerie vi fanno degli sconti proprio da gioielleria quindi magari vi tolgono 5 euro 10 euro dal totale piuttosto che prendere qualcosa che appunto avevo già è stato meglio approfittare di questo ok ragazzi questo video è diventato lunghissimo cioè come sempre spero che comunque i miei acquisti vi siano piaciuti i miei acquisti i miei regali di compleanno più che altro vi siano piaciuti i regali autofatti sono sempre migliori vero si tu dici solo vero adesso devo capire un po' dove metterli però sono super soddisfatta io vi ringrazio per aver seguito anche questo video un bacione alla prossima ciao ciao ciao